Daniele Bartoglio e il Sereni con Magnante e Carpentieri, prestazione non delle migliori, volete descriverci qualcosa alla partita, come andate, emozioni? L'arbitro non ci ha aiutato, molti fuori giochi non li ha fischiati, poi rigore non c'era, poi ci erano alcune assenze pesanti e non ci siamo impegnati. Carpentieri? Ma niente, non ci siamo impegnati al meglio, erano più forti di noi, dobbiamo ammettere, però l'arbitro ci ha messo del suo. Ma vabbè, basta così e... Arrivederci.